L'assistenza sanitaria durante il mercato settimanale, questi compiti svolti dalla Givi che da mesi è presente ogni giovedì con una sua ambulanza nei pressi dello stadio. Un'attività ancora più importante nel periodo estivo quando il caldo crea non pochi disagi ad anziani e nonna. Noi siamo qui a mercato per caso di proteggere sia il mercato e eventuali malori che si possono usare con il caldo o per qualsiasi altra cosa, una caduta accidentale o per qualsiasi altra cosa. Siamo qui con l'ambulanza e pronti per qualsiasi cosa. Cosa c'è all'interno dell'ambulanza? All'interno abbiamo un DAE, abbiamo un borsone di primo soccorso e ovviamente personale qualificato autista soccorritore con tutti i corsi dal BLSD al PBLSD e a qualsiasi altro corso per il primo soccorso. Voi sarete presenti qui tutta l'estate e non solo? Sì, da più di quattro mesi che siamo qui rimaniamo fino a un anno con sicuramente il rinnovo dell'amministrazione comunale per questo servizio che viene svolto prettamente a titolo gratuito dall'associazione Givi e per tutta la cittadinanza di Battivaglia. Per il mese d'agosto l'associazione ganereà anche un punto di primo ristoro, nel senso dall'acqua a qualsiasi altra cosa contro il caldo, quindi diamo non solo assistenza sanitaria ma anche una tempestiva acqua e zucchero, una bottiglietta d'acqua proprio per l'esigenza delle persone più anziane.